Ma che razza di gioco hai fatto? Ma come hai fatto a morire così? Solamente i noob muoiono così. Tua madre ti ha mai insegnato a sparare? Guarda che tua sorella ieri sera sul marciapiere sparava 50 euro a colpo e non ne ha mancato neanche una. Ma dai, ma disinstalla, ma dati a lì, ma vaffan... Se vi fosse capitato una reazione del genere, una comunicazione del genere insieme ad alcuni amici mentre stavate giocando ad Apex e Fortnite e magari l'avete anche persa in malo modo, ditemi, non vi verrebbe tanta voglia di spaccare le gengive a quel vostro amico che si è comportata in questa determinata maniera? In parole povere, ragazzi, la comunicazione è davvero molto importante. Allo stesso tempo non serve solamente arrabbiarsi, ma i tipi di comunicazioni che in qualche modo danno fastidio, creano ansia e ti fanno anche pensare che quella determinata persona abbia dei seri problemi mentali, possono essere rage, possono essere sbuffi, può anche essere la non più voglia di giocare con voi. Essenzialmente, capite, la comunicazione, che può essere verbale o non verbale, un comportamento o un linguaggio, lo scrivere i cosiddetti leoni da tastiera nel mondo dei gaming è davvero disastroso. Ed essenzialmente, però, io quest'oggi, qui su questo special di Top Off, voglio farvi una domanda. Secondo voi, la comunicazione, una comunicazione efficace, una comunicazione fatta bene, un linguaggio educato e anche delle informazioni, diciamo, di un determinato livello, non sarebbero più consone a farvi migliorare, a farvi divertire un po' di più? Bene, ragazzi, per questa dinamica di tossicità dilagante di queste comunicazioni verbali che la stessa Riot ha preso in seria considerazione, che ascolterà tutto e poi vi bannerà se iniziate a insultare le persone, beh, essenzialmente penso che sia fonte importante e quindi meriti assolutissimamente di essere affrontato in questo nuovo video, in cui andiamo a vedere, appunto, i pro e i contro di una comunicazione non tanto efficace nei nostri amati videogames. Benvenuti, io sono il Silver e voi siete su eSport Itapation. Il video di quest'oggi si compone di tanti punti, per cui ne farò uno io col mio brutto faccione e uno senza mio brutto faccione, ma essenzialmente la comunicazione, e qua entriamo negli assiomi della comunicazione, quindi chi ha studiato psicologia o comunque qualcosa del genere lo saprà sicuramente, sono tanti, sono eventuali, ma forse quello più importante in assoluto è questo, non si può non comunicare. L'essere umano è portato a comunicare. Io in questo preciso momento sto parlando con la mia voce, ma sto parlando anche con il mio corpo, con la mia espressività, con il mio tono, cercando appunto di dare una determinata enfasi o comunque significato alle mie parole, quindi cercando di elevarle un po' di più. Quindi immaginati che una comunicazione non è efficace non è solamente il mi arrabbio oppure inizio a insultarti la mamma e la sorella dopo una giocata, ma potrebbe essere uno sbuffo. Potrebbe essere anche semplicemente il non parlare. Il non parlare definisce essenzialmente uno stato da parte della persona che non sta parlando di ansia, non sa bene come interagire, vorrebbe dire qualcosa ma le emozioni potrebbero tradirlo, ok? Immaginate di essere molto presi dalla rabbia ma non volete insultare il vostro amico, e allora state zitti, ma allo stesso tempo avete già detto qualcosa, e cioè non parlo con te perché ti sei fatto uccidere il game precedente. Ragazzi, vi invito tantissimo e vi esorto a cercare di analizzare o comunque soppesare quello che dite durante i vostri game, soprattutto quando ci troviamo con persone che non conosciamo, ok? In quel caso specifico, mi raccomando, non alzate la voce, non tutti hanno il nostro livello che potrebbe essere in Fortnite, che potrebbe essere in Apex e tanto altro, perché in Apex, rank oro per dire, potreste incontrare tranquillamente dei giocatori Diamond, ma potreste anche incontrarne alcuni in Silver. Allo stesso tempo le rank di Fortnite non sono tutte uguali, immaginatevi la rank competitiva è composta da ben quattro livelli differenti, quattro tipi di giocatori differenti. Com'è possibile quindi iniziare a insultare quel determinato player se non è in grado di portare a termine correttamente quel determinato fighter e ci lascia morire. Davvero? Bisogna insultargli la mamma per tutto questo? Ecco, vi esorto caldamente a riflettere, quindi state ben attenti. Comunicazione verbale e non verbale, state sempre comunicando. Punto numero due, e dopo aver soppesato quello che dobbiamo dire, la parola d'ordine è ascoltate. Questa è la prima regola per una comunicazione efficace, per comunicare in un modo che gli altri ti capiscono, prima di tutto, prima di aprire la tua boccaccia, devi ascoltare. Ascoltare si rivela spesso di un'importanza davvero altissima. L'ascolto attivo significa fare domande, ok? Per poi, in qualche modo, sforzarsi di capire quello che l'interlocutore cerca di dirci. Ad esempio, ci troviamo in un trigo in Fortnite e il nostro compagno inizia a dire, aiutatemi, aiutatemi, qua c'è il centro a destra e sinistra. Non è che devo dire, eh sì, aspetta, mettiti comodo, spiegami in maniera più chiara il tutto. No, ok? Ascoltare efficacemente vuol dire che devo cercare, in qualche modo, di dare più peso a quello che lui mi sta dicendo. Si trova in una posizione di estrema difficoltà, quindi devo mollare quello che sto facendo, devo fargli delle domande, devo chiedergli di pingare, devo chiedergli di aspettare, devo chiedergli di non pushare, devo chiedergli di resistere, devo chiedergli di fare un box fight, gli devo chiedere quanti player avversari sta affrontando, gli devo chiedere come si è un attimino espanso questo combattimento. Insomma, ascoltate quello che lui vuole dire e se le informazioni che lui vi dà sono troppo poche, beh, fategli delle domande. Fare delle domande durante un gameplay è davvero molto importante, prendiamo sempre Fortnite. Da quanti player sei attaccato? Dove ti trovi? Hai la possibilità di farti uno scelidino? Hai abbastanza mazzo? Ok, aspettami 30 secondi, inizia a overbuildare. Chiaro, quanto tempo ci abbiamo messo? E abbiamo ascoltato in maniera attiva, abbiamo comunicato efficacemente al nostro compagno e non abbiamo detto Sì, boh, moh, arrivo, ma sei sempre nei casini? Ma quanto lontano sei rimasto? Se il player è rimasto lontano è perché probabilmente non avete ascoltato il suo grido di, appunto, avevo bisogno di mazzo, appunto, stavo lutando, oppure voi siete troppo veloci per il mio livello. E dopo aver fatto tutto questo, credi che sia finita? No, c'è un altro grande trucco per valorizzare il tuo gameplay, renderli più belli e simpatici anche per tutti quelli che li affrontano, permettere agli altri di capire e apprendere al meglio quello che state facendo, è essenzialmente quello di non valutare gli altri. Chi valuta gli altri essenzialmente inizia a criticare a destra e sinistra perché non mi hai seguito, perché non hai abbastanza mazzo, perché non hai fatto questo, perché non hai seguito la mia strategia. Essenzialmente deve imparare a stare zitto, ok? Perché dico questo? Appunto perché mettete pressione e ansia all'interno appunto dei player che vi stanno ascoltando. E se voi davvero siete così bravi, così alti, così incredibilmente geni in quello che state facendo, allora dovreste essere in grado anche di capire che il player magari non è al vostro livello, ok? O magari c'è stato un'incomprensione, o magari non avete pingato adeguatamente, o magari non vi siete capite efficacemente. essenzialmente ci possono essere tantissime motivazioni per la quale un player va da una parte e un player va dall'altra. No, quello che sapete fare è perché non mi hai seguito? Perché hai fatto di testa tua? Perché sei indietro? Perché non mi hai aspettato? Perché non mi hai aspettato? Perché forse tu stavi prendendo tutto il loot, o forse perché tu avevi preso una macchina e non mi hai aspettato, mentre io avevo bisogno di loot. Avete capito? Queste persone in qualche modo pretendono di avere sempre ragione, si permettono di autovalutare, criticare gli altri senza mai comprenderli, senza mai in qualche modo entrare, essere empatici con i player con cui stanno lottando. No, assolutissimamente no. Loro hanno ragione. Tu hai torto. Ragazzi, comunicazione zero da parte di queste persone. Quarto consiglio. Ragazzi, fermiamoci. Sì, 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 sì. Una pausa è sempre utile. Prendetevi un momento e pensate prima di parlare, prima di arrabbiarvi, prima di criticare quel player iniziato a dirgli eh, ma perché l'hai fatto? Perché non mi hai seguito? Perché non hai fatto così? Perché non hai fatto colà? ma semplicemente state in silenzio. Uno, due, tre, quattro secondi. Specialmente se siete in uno stato altamente emotivo, soprattutto quando si è arrabbiati. Può sembrare semplice questo consiglio, lo comprendo, ma la teoria in questo caso è molto facile. È molto difficile praticare con coerenza questo atteggiamento. Ma se impari da questi errori e continui a migliorare oppure aspetti qualche secondo, ti alzi, fai un bel respiro, bevi, ti muovi, aspetti qualche minuto da un game all'altro, svuoti la viscica oppure fai un'oretta di attività tra cui leggere, attività fisica e tanto altro, forse dopo non vedi le azioni in un'altra maniera? Forse dopo che sei più calmo non ti accorgi che l'errore magari parte da te. Può partire da te, ok? Magari quell'azione, il fatto che il player abbia agito in quel determinato modo è dettato da, oh non lo so, una determinata causa che voi avete scatenato. Magari voi avete voluto pushare troppo, ok? Avete pushato troppo, la squadra si è splittata e voilà! Siete belli che morti e poi sei rimasto praticamente da solo. Per cui evitate, ok? Tutto questo, il fermarsi poi, vi permetterà di comunicare in maniera più rispettosa, entrare in empatia con i vostri amici ma soprattutto evitare di arrabbiarvi. E che cavolo, questo mi sembra un gran bel consiglio. Quinto consiglio che vi posso dare è la trasparenza. Che cosa voglio dire con trasparenza? Voglio dire che se essenzialmente un player ha davvero sbagliato, una rotazione e quel determinato errore l'ha davvero commesso, io non vi ho detto di tacere, io non vi ho detto di nasconderlo, io non vi ho detto di tenere quel determinato player all'interno della vostra squadra. No! Ma ci sono modi di dire e modi di fare. Ad esempio, se il nostro compagno ha sbagliato veramente quella determinata mossa che poi ci ha portato a perdere, allora, perché non prendiamo il replay? lo andiamo a analizzare insieme e gli dico no, guarda, noi ce l'avamo mossi da questa parte, in questa rotazione, perché tu ti sei fermato? La prossima volta stacci più vicino, ok? Quindi c'è una trasparenza, c'è il nostro amico che può vedere effettivamente che in quel preciso momento le sue azioni non erano corrette, oppure allo stesso tempo il nostro compagno, appunto, che ha sbagliato può dirci no, guardate, in quel preciso momento ho laggato oppure ero assaltato da un'altra parte, quindi capite che con dei toni calmi, pacati, trasparenti, dove entrambi i, diciamo, comunicatori mettono in campo quello che è successo e in qualche modo entrano a patti, ok? Tutti e due sono trasparenti, tutti e due dicono le cose, come sono state fatte e hanno dei fatti da poterlo dimostrare, essenzialmente mettono i due comunicatori sullo stesso piano e chi magari sta in qualche modo attaccando il player che ha sbagliato può capire meglio del perché ha sbagliato e chi ha sbagliato può capire meglio cosa ha sbagliato e quindi riparare il suo errore magari nei game successivi. Allo stesso tempo, amici, il fattore della trasparenza e del non starci vuol dire anche che non dovete ingogliare i rospi che i vostri compagni fanno. Se hanno sbagliato bisogna dirlo. Se voi avete fatto una cosa giusta beh, bisogna dirlo. Ma c'è un modo per dire tutto quanto? Un modo per dire ho fatto giusto io, voi siete merde? E un modo. Oppure un modo per ragazzi, scusate, siamo andati da questa parte, vi l'ho pingata. Perché non siete venuti con me? Guardate che da quella parte in base alla rotazione, in base a quello che avevamo visto, in base allo scout di Gibraltar, to, butto nomi a caso di giochi a caso che poi Gibraltar non può neanche scoutare, ma essenzialmente da quella parte forse avremmo avuto qualche chance in più. Due modi di dire la stessa identica cosa che però hanno dei pesi molto molto significativi, di diverso impatto nei vari giocatori. Non tutti sappiamo gestire l'ansia, non tutti sappiamo gestire dei player aggressivi, non tutti ci accorgiamo degli errori che facciamo in quel determinato gioco, in quel determinato momento, perché sono tutti momenti molto veloci, concitati, adrenalinici, quindi è anche un po' difficile rendersi conto degli errori e delle cose buone che facciamo. No, ci accorgiamo solamente quando è troppo tardi, quando l'uovo è già rotto, come si dice dalle mie parti. insomma, trasparenza in tutti i sensi. E per ultimo, uno dei consigli più preziosi in assoluto, lo potete utilizzare nel vostro gameplay per renderlo più bello, più frizzante e far divertire tutti, ma potete utilizzarlo anche nella vostra vita privata, essenzialmente concentratevi sul lato positivo. È chiaro che se avete perso, avete perso e se qualcuno deve prendersi la colpa, obiettivamente bisogna affrontare quella situazione e l'abbiamo visto, ma allo stesso tempo immaginiamoci di essere entrati in un torneo e aver magari essere riusciti a piazzarci in una quinta, decima posizione. Perché non concentratevi sul lato positivo? Quale esperienza è stata per voi? Vi ha portato quali contributi? Essenzialmente, coltivare il giudizio negativo negli altri è praticamente facile, è un modo infallibile per crescere con il disprezzo e diventare sordo a tutto quello che gli altri stanno cercando di comunicarci. Esattamente il contrario di quello che vi ho insegnato in questo video, per cui concentratevi su altri lati. Ad esempio, cercate di capire se, ad esempio, in quel determinato game la vostra comunicazione è stata efficace. Avete affrontato delle situazioni difficili e ne siete venuti fuori? Se sì, perfetto, mettetelo sul tavolo e datevi una bella pacca sulla spalla. Oppure allo stesso tempo, no? Bene, perfetto, anche quello è un lato positivo. Lo sapete perché? Perché avete capito che avete preso un lato della comunicazione che non è efficace. Non avete trovato le parole adatte. Non avete trovato una comunicazione, un sistema di ping, insomma, una strategia che in qualche modo vi si confà. Appunto, se avete toccato il fondo, avete sbagliato, quella è una parte importantissima del vostro processo di comunicazione perché vi permetterà di switchare su un altro sistema che magari sarà più efficace per voi. Posare queste fondamenta renderà i vostri contatti, le vostre comunicazioni molto più costruttive e allo stesso tempo trovare i lati positivi di tutto quello che facciamo, tutto quello che diciamo sia buono sia cattivo ci permetterà anche di essere un pochetto più allegri, alleggerire obiettivamente una situazione di stress, ansia e rabbia che in qualche modo potrebbe sfociare anche in delle parole che non vorremmo mai dire e quindi ecco, ne abbiamo guadagnato in comunicazione, in amicizia e abbiamo anche capito qual è la strada giusta da perseverare. E come avete visto con questi semplici trucchi anche quest'oggi abbiamo innalzato il nostro livello da pro player, siamo diventati dei videogiocatori migliori, sapremo comunicare meglio, sapremo trovare i punti di accordo e disaccordo, lavorare su di essi, abbiamo capito che la comunicazione non è un semplice parla 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 pinga pinga pinga, è un capire, un empatizzare, un ascoltare e un comunicare efficacemente, qualcosa di estremamente più complesso del vai a destra, spari a sinistra, vai qui, vai giù, vai giù, hai sbagliato, un nubbo di merda, disinstalla, tua sorella ha battuto ieri sera per 50 euro e non ha perso un colpo. E sempre le solite cose, essenzialmente anche quest'oggi amici, siamo cresciuti, siamo cresciuti e continueremo a farlo attraverso questi special che spero vivamente voi vogliate seguire nei prossimi video, sempre qui, sui sporti da pesce. Ciao!